Amareggiato, deluso, di più furibondo, l'ormai ex assessore alla cultura di Milano Stefano Boeri si scaglia contro il sindaco Pisapia e il Partito Democratico dopo essere stato estromesso dalla giunta di Palazzo Marino. Non le manda dire Boeri che attacca frontalmente il primo cittadino e in un'intervista al Tg regionale Lombardo della Rai ha definito infondate le motivazioni addotte dal sindaco come la scarsa presenza in conferenze stampa, le spese eccessive per le mostre e la poca attenzione alle periferie. La sindaco ha dato una serie di spiegazioni sinceramente di pochissimo peso sul fatto che partecipavo a poche conferenze stampa, cosa non vera, sul fatto che spendevamo troppo per le mostre, cosa in me addirittura infondata, nel senso che noi abbiamo fatto tante mostre con pochissimi soldi. Vede, credo che le motivazioni vere io non le abbia ancora sentite. Sistemato Pisapia, Boeri ne ha anche per i dirigenti milanesi del Partito Democratico che hanno dato il via libera alla sostituzione in cambio di tre nomine di assessori PD, Rozza, Del Corno e Balzani. Un piccolo apparato di persone rancorose, così li definisce Boeri, questo PD non è una cosa seria attacca, non è quel partito che ha contribuito alla vittoria di Pisapia nel 2011 quando raccolsi ben 13.000 preferenze. Direi che più che scaricato, il PD mi ha venduto per un piatto di lenticchie da tempo, ma questo PD mi ha venduto, è un PD fatto ormai da dirigenti che non sono più legittimi, che sono stati eletti quattro anni fa in un mondo diverso. Il PD che io ho contribuito a far vincere alle elezioni del 2011, il PD che ha eletto 20 consiglieri, non è quel PD lì che decide un sabato mattina di liquidare un proprio assessore senza neanche avere il coraggio di comunicarmelo. Dal Partito Democratico il segretario metropolitano Cornelli e il coordinatore cittadino La Forgia replicano agli attacchi di Boeri con un comunicato stampa con un titolo eloquente. Siamo dispiaciuti per la fine del rapporto di fiducia tra Pisapia e Boeri, scrivono ma difendono l'operazione spiegando che dopo il rimpasto il PD ha più assessori in giunta.